You should pull the fucking trigger Vediamo se andrà tutto bene anche perché c'è da dire che il canale è nuovo L'ho creato da poco quindi le grafiche sono ancora in aggiornamento Comunque spero tanto che qualcuno di voi ci sia per supportarmi durante la streaming Poi ovviamente se rimanete attivi sulla chat io vi risponderò senza nessun problema Se qualcuno di voi si sarà chiesto se il canale di YouTube subirà qualche intervento Posso dirvi SNI Cioè da una parte sì, probabilmente i video saranno ancora inferiori Anche perché voglio un po' dedicarmi a Twitch visto che sta andando molto bene nell'ultimo periodo Perché YouTube purtroppo si fa molta fatica a crescere su questa piattaforma Quindi volevo passare un po' su Twitch a fare live e nel caso portarvi gli estratti su YouTube Quindi su YouTube qualcosa verrà pubblicato da parte mia Magari anche qualche gameplay un po' più editato e quant'altro ci sarà Però principalmente adesso volevo passare su Twitch come piattaforma a vedere un po' come va Detto ciò volevo ricordarvi di seguirmi su Facebook, Instagram Tutti quanti i profili e tutti quanti i link anche al canale nuovo di Twitch saranno sotto in descrizione Se non l'avete fatto ovviamente iscrivetevi al canale di Twitch Mi raccomando è importantissima questa cosa Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo domenica se lo vorrete Un saluto alla vostra Razor Alla prossima